La settimana che porterà la prima casalinga contro Mondovì Intanto con quali impressioni comincia questa nuova settimana di lavoro? La settimana è iniziata ieri, abbiamo fatto un bel lavoro Abbiamo parlato un attimino con i ragazzi delle cose che sono andate Perché la partita di Livorno e alcune cose sono andate anche abbastanza bene Siamo riusciti ad essere costanti nel fare queste cose e proprio di questo ne abbiamo parlato La settimana lavoreremo ancora di più, soprattutto sulla situazione del cambio palla Ma anche e soprattutto sul discorso di contraattacco Perché come è avvenuto anche negli amichevoli, anche domenica abbiamo avuto situazioni sul contraattacco E siamo stati poco efficaci Domenica però sarà il momento appunto di affrontare un'altra partita Arriva Mondovì, cominciamo ad analizzare anche il prossimo avversario Sicuramente avrete già cominciato a studiare appunto quelle che sono le insidie di questa nuova squadra Sì, Mondovì è una squadra differente, una squadra sicuramente più fisica di massa Con un opposto per la categoria espertissimo, Morelli Però anche il resto della squadra è una squadra molto molto interessante Quindi è un impegno sicuramente da affrontare con maggiore determinazione e maggiore qualità Si giocherà come dicevo tra virgolette in casa a Corigliano La prima casalinga purtroppo non si potrà giocare ancora alla Mezzia In attesa che si sblocchi definitivamente la situazione E che si possa donare a giocare nel nostro palazzetto Sarà quindi un ostacolo in più se vogliamo affrontare una seconda trasferta Nel corso di questa stagione consecutiva Sì, realmente sarà così perché faremo allenamento a Corigliano una volta o due volte E quindi affronteremo questa partita come se fosse fuori casa Per me sarà un ritorno piacevole nel senso che a Corigliano ho lavorato tanti anni Sono partito da lì e quindi l'unica cosa piacevole sarà questa Però per il resto mi dispiace veramente tanto non poter iniziare il campionato qui in casa E sarebbe bastato poco secondo me per poterlo fare Che cosa si aspetta dalla sua squadra in occasione di questa partita? Una reazione, un qualcosa in più rispetto a quanto ho visto Livorno? Io sono convinto che ci sarà qualcosa in più perché ci stiamo allenando bene I ragazzi stanno lavorando bene, non si tirano indietro mai Quindi noi possiamo solamente migliorare Mi aspetto dei miglioramenti, adesso non so quali saranno Però dei miglioramenti sicuramente ci saranno